Carte di credito Toma Muso Duro è un grande blef del Movimento 5 Stelle, parole durissime contro Greco. Con Micone Dilucente ha avuto un atteggiamento politico disgustoso. Si svolgeranno domani a Torremaggiore i funerali di Valentina Laporta, la 24enne che ha perso la vita ieri pomeriggio a Termoli. La sua moto si è scontrata con una betoniera in via Pertini, indagato l'autista del mezzo negativo all'alcol test. Dovrà restituire circa 300 mila euro alle forze armate il pilota di Carovilli che si schiantò il 2 agosto del 2014 con un caccia dell'aeronautica militare sulle colline del paese in provincia di Isernia. Lo ha stabilito la Corte dei Conti. La sanità pubblica molisana sull'orlo del baratro. Per il presidente dell'Ordine dei Medici di Isernia manca qualsiasi forma di programmazione. Il privato non può sostituirsi al pubblico, l'avvertimento di Fernando Crudele. Forza Italia si mobilita contro la prescrizione. Il governatore annuncia un referendum per abrogare la riforma Bonafede. Infine lo sport il calcio a 5. Cus Molise a Cosenza per riscattare l'ultima sconfitta casalinga. Sporting Venafro a Ostuni per i playoff. Chaminade in casa contro il Real Dem. Serie D, Campobasso, Candellori suona la carica. Pronti a battere il Porto Sant'Elpidio. Buon pomeriggio e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione. In apertura un'ultimissima notizia. È appena terminato. Al Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, il tavolo sulla Unilever alla presenza della sottosegretaria Todde e dei vertici della multinazionale. Filtrano umori positivi. Ora non resta che attendere la convocazione di un nuovo incontro, questa volta anche con le parti sociali. Quindi capire quale sarà davvero il piano, la programmazione futura per questa importantissima azienda del nucleo industriale di Pozzilli. E ora parliamo della polemica sulle carte di credito perché si è espresso il governatore Donato Toma attaccando il Movimento 5 Stelle. È un grande blef. Poi con Micone e Dilucente, Andrea Greco ha avuto un atteggiamento politico disgustoso. Queste le parole forti del Presidente. Sentiamo quindi il servizio di Pierluigi Boragine. Costi della politica dopo l'affondo del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, che ha contestato al consigliere Dilucente e al Presidente del Consiglio regionale Micone di aver speso 3.400 euro per due giorni a Bruxelles, di aver alloggiato in alberghi di lusso a 400 euro a notte, dove per notta la Merkel, e di aver mangiato pesce crudo con i soldi dei molisani. E dopo le recenti schermaglie sulle carte di credito in uso al Presidente, gli assessori e l'impossibilità per i grillini di accedere alla documentazione, il governatore Donato Toma si dice tranquillo e definisce il caso carte di credito un grande blef costruito dal Movimento 5 Stelle. Parole dure, quelle del Presidente nei confronti di Greco, il cui atteggiamento politico viene definito disgustoso. È un blef costruito quasi ad arte, perché i blef ad arte non vengono fuori dal Movimento 5 Stelle. Se lei poi ha la bontà, come buon giornalista quale penso che sia, di andarsi a leggere le pubblicazioni, ciò che è pubblicato sul sito del Consiglio regionale, noterà che nella sezione consiglieri, sotto la voce Presidente Donato Toma, in particolare le do un indizio, troverà tutte le missioni da me effettuate con la data e il costo. Quindi, se poi qualcuno ha qualche sospetto su una missione e ci chiede la missione specifica, daremo tutti gli atti. Mi pare però che quel che è successo al Consigliere Presidente Miconi, al Consigliere di Lucente, ho visto un video di un rappresentante dei 5 Stelle, sia una cosa, io direi, politicamente disgustosa, umanamente non giudicabile, perché dovrei usare delle parole troppo brutte, andare a sindacare cosa mangio a un consigliere e dove dorme un consigliere, non sapendo che quei consiglieri che hanno partecipato per ragioni istituzionali agli Open Days a Bruxelles nei giorni in cui i prezzi triplicano anche, significa avere una conoscenza della materia amministrativa dell'Europa e del sistema dei prezzi praticamente pari a zero. Ed ora la cronaca, la città di Termoli è sotto shock per l'improvvisa scomparsa di Valentina Laporta, una ragazza di soli 24 anni che ieri era a bordo della sua moto quando si è scontrata con una betoniera, inutili i soccorsi e la corsa all'ospedale Santimoteo, indagano polizia e municipale. Una tragedia improvvisa scuote la città di Termoli, Valentina Laporta, 24 anni, del posto, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Pertini all'altezza dello svincolo in direzione nord della tangenziale. Era a bordo della sua moto naked e si è scontrata con una betoniera che procedeva verso San Giacomo degli Schiavoni, il paese in cui la ragazza lavorava. Subito l'allarme al 118 e l'arrivo dei sanitari. La 24enne è stata trasportata ad urgenza, in ambulanza all'ospedale Santimoteo, in condizioni disperate. Qui, dopo pochi minuti, nonostante il tentativo dei medici di salvarla, non ce l'ha fatta. Sul posto, i poliziotti del commissariato di Termoli hanno eseguito i rilievi e ora si occuperanno con la municipale di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il conducente del camion è stato sottoposto come da prassi ad alcol e drug test per verificare le sue condizioni mentre era alla guida. Sotto shock la famiglia e i tanti amici di questa ragazza, giocatrice di calcio a 5, militava nell'Arcadia Termoli. Insegna il Fuzz alla Gli Angeli, il commovente messaggio della società su Facebook. E a proposito di quanto si diceva nel servizio, la Polizia Municipale di Termoli ha concluso gli accertamenti sull'incidente che è avvenuto ieri nel primo pomeriggio in Via Pertini. Gli atti sono stati consegnati in procura, non è stata disposta l'autopsia. E' stato concesso il nulla ossa alla famiglia per i funerali che si svolgeranno domani a Torre Maggiore. Per la ricostruzione di quanto accaduto si stanno ascoltando alcuni testimoni. Ci sono elementi non ancora completamente chiari. E' indagato l'autista del camion che si è scontrato con la 24enne negativo all'alcol test. Dovrà restituire circa 300 mila euro alle forze armate il pilota di Carovilli, che ricorderete il 2 agosto del 2014, si schiantò con un caccia dell'aeronautica militare sulle colline del paese in provincia di Isernia. Lo ha stabilito la Corte dei Conti. Sentiamo Nicola De Santis. Il primo agosto del 2014, una MX dell'aeronautica militare italiana si schiantò in località Fratangelo, un chilometro a sud di Carovilli. Per quell'incidente il pilota, allora 35enne originario proprio di Carovilli, è stato condannato a risarcire 300 mila euro al Ministero della Difesa. La procura della Corte dei Conti aveva chiesto quasi 4 milioni di euro. Per i giudici, il capitano deviò arbitrariamente la rutta che da pratica di mare avrebbe dovuto condurlo a Estrana, per un passaggio sul paese natio. Una sorta di inchino che ebbe però conseguenze disastrose. Il velivolo infatti non riuscì a riprendere quota, precipitando su uno dei colli che sovrassa Carovilli. Il pilota si salvò lanciandosi con il paracadute subito prima dell'impatto. scattarono le indagini della procura di Sernia e del Tribunale Militare, con conseguente interessamento della Corte dei Conti. Per la giustizia amministrativa si sarebbe determinato un danno all'erario pari a 3 milioni e 700 mila euro circa, per il valore della MX, del carburante nei serbatoi e per le spese di recupero della carcassa. Il Tribunale Militare di Roma aveva già condannato il pilota a un anno di reclusione militare e alla rimozione del grado. I carabinieri hanno fermato la banda dell'Audi Nera. I militari hanno intercettato l'auto di grossa cilindrata mentre procedeva in direzione Termo-Liboiano, in territorio di Castro-Pignano, sulla Bifernina. A bordo c'erano quattro uomini di nazionalità romena. Immediatamente sopraggiunta in supporto anche una gazzella dell'aliquota radiomobile per la perquisizione e nel bagagliaio è stato trovato un borsone con all'interno oggetti e strumenti da scasso. I quattro romeni, provenienti da Foggia, tutti già noti alle forze dell'ordine per furti in abitazione e a danno di aziende, hanno dichiarato di essere in zona per un colloquio di lavoro, ma dopo i riscontri dei carabinieri sono stati condotti in caserma per una più accurata perquisizione personale e dell'auto. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e per tutti e quattro è scattato il foglio di via obbligatorio proposto nell'immediatezza dalla questura di Campobasso e subito emesso. E sempre i carabinieri, ma della compagnia di Larino, hanno arrestato un uomo di 66 anni di ururi in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Larino. L'uomo deve scontare tre anni e un mese di carcere per tentato omicidio. Il 27 luglio del 2012 accoltellò la figlia, allora ventenne, procurandole delle gravissime ferite. Dopo le formalità di rito, il 66enne è stato tradotto nella casa circondariale di Larino dai carabinieri della stazione di Ururi. Stavano per mettere a segno l'ennesima truffa ai danni di persone anziane, ma grazie ai recenti interventi di sensibilizzazione da parte dell'arma, una nonnina che era stata presa di mira ha allertato subito il 112 e i carabinieri di Riccia hanno denunciato due pregiudicati. Sentiamo. Nonostante la forte campagna di sensibilizzazione portata avanti dai carabinieri proseguono i tentativi di raggiri ai danni degli anziani che ricevono telefonate da parte di sedicenti avvocati, postini, tecnici Enel ed altri, i quali in maniera convincente con tecniche e raggiri vari chiedono soldi e preziosi talvolta anche per ottenere risarcimenti sui inassistenti incidenti stradali causati da figli o nipoti delle vittime o per la mera consegna di pacche. Ed è così che due giorni fa nel corso di un servizio mirato di contrasto alle truffe, in particolare quelli ai danni di persone anziane, sono stati fermati due soggetti campani pluri pregiudicati in atteggiamento sospetto in auto in prossimità di un'abitazione poco prima destinataria della fatidica chiamata telefonica in cui veniva prospettata la persona anziana l'imminente consegna di un pacco di lì a breve previo pagamento di una cospicua somma di denaro da versare all'atto della consegna presso il domicilio. Telefonata che anche in questo caso non ha avuto il fine sperato perché, grazie anche alla capillare campagna di sensibilizzazione dell'arma, molte delle vittime prescelte sono ormai ben preparate al probabile evento e pronti ad avvisare i carabinieri. Proprio grazie alle tempestive segnalazioni, i controlli successivi eseguiti dai militari di Riccia coadiuvati dai carabinieri di Campobasso hanno permesso di bloccare a Riccia i due individui napoletani, già noti per alto alle forze dell'ordine, che nascondevano sulla propria persona e all'interno della macchina tre telefoni cellulari con altrettante schede SIM risultate intestate ad ignare o fantomatiche persone, utilizzabili senza possibilità di essere rintracciati per il contatto telefonico con le potenziali vittime. I due portati in caserma per i successivi accertamenti non hanno saputo giustificare la loro presenza a Riccia e sono quindi stati denunciati alla procura di Campobasso. La sanità molisana è sull'orlo del baratro. Per il presidente dell'ordine dei medici di Isernia, Fernando Crudele, manca la programmazione. Il privato non può sostituirsi al pubblico, ha detto. L'elettroencefalogramma degli ospedali di Agnone, Venafro e Larino è ormai piatto. I nosocomi di Isernia e Termoli sono agonizzanti e non scoppia di salute neppure il Cardarelli. Questa la desolante situazione della sanità pubblica in Molise. Per l'ordine dei medici di Isernia, una riorganizzazione del servizio era auspicabile, ma era necessaria a monte una seria programmazione. La ricetta del presidente dell'ODM, Fernando Crudele. Sicuramente investire nella sanità pubblica che era nel Molise era molto capillare, forse era troppe reparti, troppe asle, troppi ospedali, ma adesso si sta facendo tutto il contrario. Adesso si sta arrivando nella fase che si chiude tutto. Diciamolo chiaramente, l'ospedale di Venafro è chiuso, l'ospedale di Alerino è chiuso. L'ospedale di Agnone lo stanno portando alla chiusura, pur essendo un ospedale di montagna, di area disagiata. Ma lo stesso ospedale di Isernia, come anche quello di Termoli, rischiano in tanti reparti, come può essere la ginecologia, come può essere l'emodinamica, come possono essere anche l'oncologia. Ci sono delle chiusure senza senso. Posso capire, per esempio, la neurofisiopatologia a Isernia per quanto riguarda gli interventi, ma non riesco a comprendere un'attività ambulatoriale, un'attività di consulenza. Non c'è soltanto l'ictus nella fase acuta, ci sono anche altre patologie, c'è anche la fase post-ictus che deve essere eseguita. Il problema grosso nella nostra regione è che si parla tanto di medicina territoriale, ma è la cenerendola di tutto. Non ci sono investimenti, non c'è una programmazione, ci sono soltanto litigi fra la classe politica e la classe commissariale, che ancora è in essere. In una regione con 300.000 abitanti è comprensibile l'accentramento dei servizi verso un unico ospedale, ma bisogna ugualmente garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute. Che sia tutto accentrato a livello di campo basso è nei fatti. Ogni reparto è nel stato centralizzato a campo basso. Ma anche questo, uno può, mettendosi a tavolino, può anche comprendere, perché siamo in una regione di 300.000 abitanti, non è molto grande, però bisogna vedere tutto il resto. La viabilità, che stiamo a livelli veramente indecenti, il rapporto con gli anziani, una delle regioni con un tasso di anziani più elevato d'Italia, la possibilità per i pazienti di arrivare a campo basso, insomma, sono tante altre cose, non è soltanto la sanità, è tutto un contesto sociale e economico. Lo sbilanciamento verso il privato ha sottratto risorse alla sanità pubblica, eppure il privato dovrebbe integrarsi al pubblico, non soppiantarlo. Ora, per quanto riguarda la sanità privata, non sta a me dire, chiaramente si è sempre detto che deve collaborare, deve essere parallelo, deve coadiuvare le manchevolezze che ci sono a livello di sanità pubblica. Non deve essere antagonista, non deve essere conflittuale, concorrente. La politica adesso Forza Italia si mobilita contro la sospensione della prescrizione e il presidente Toma annuncia un referendum per abrogare la riforma Bonafede. Con il lodo Conte-Bis, che prende il nome da Federico Conte, deputato di Leu, compromesso trovato da Movimento 5 Stelle, PD e Leu, il decorso dei termini di prescrizione dopo il primo grado di giudizio continuerebbe a scorrere nei casi di assoluzione, mentre si bloccherebbe per i condannati. Ma per Forza Italia, e più in generale per il centrodestra, è solo una manovra per mantenere in carica il governo con il PD, che fa da stampella ad un'azione giustizialista da sempre cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Anche i forzisti molisani sono mobilitati nella campagna nazionale per dire no alla riforma della prescrizione. Un argomento molto importante che Forza Italia sta portando avanti in tutta la nazione e anche qui nel Molise vogliamo far capire questo problema che c'è con questa approvazione della legge, che già è legge dal primo gennaio sulla prescrizione, le problematiche che riguardano tutti i cittadini. Quando uno viene così indagato e poi, in caso mai, condannato in primo grado, non ci sarà più la prescrizione e quindi i tempi si allungheranno in eterno fino a quando appunto ci sarà il terzo grado di giudizio. Noi abbiamo necessità di far capire ai cittadini che questa è una legge che va cambiata assolutamente, lo dicono anche gli addetti ai lavori e adesso è soltanto un mero esercizio per far rimanere in vita questo governo che tra l'altro sta creando solo danni per la nostra nazione. Il 69,8% delle prescrizioni matura già durante le indagini preliminari, prima ancora che si è avviato il processo e qui si legge nel report di Forza Italia le colpe sono integralmente a carico dei PM e dei collaboratori e non certo dell'indagato, imputato o della sua difesa che non tocca palla. La riforma Bonafede, le parole dell'assessore regionale Nicola Cavaliere, danneggia tutti, in particolare gli innocenti. Per il presidente della regione, Donato Toma, la riforma della prescrizione potrebbe anche andare bene se si assicurasse, con un intervento più ampio, la ragionevole durata dei processi. Per dire no alla riforma Bonafede, il Molise, annuncia Toma, sarà in prima linea e in consiglio giungerà la proposta di un referendum abrogativo. Il Consiglio Forense Nazionale si è espresso in questo senso, di chiedere ai consigli regionali la promozione di un referendum abrogativo. Io penso di portare questa proposta in Consiglio regionale. Tempi duri per chi utilizza il cellulare alla guida. Le nuove norme hanno inasprito le sanzioni e reso più rilevanti i rischi per gli automobilisti indisciplinati. In poche ore la Polizia Stradale di Campobasso ha elevato decine di verbali, fino a 2.500 euro di multa. eccesso di velocità alla guida, ma non solo, anche uso del cellulare e omesso uso delle cinture. Sono i tre obiettivi posti dalla Polizia Stradale di Campobasso che in questi giorni ha eseguito una serie di controlli con personale in borghese e pattuglie ordinarie. Una mirata attività finalizzata in particolare a reprimere soprattutto le condotte indisciplinate alla guida. I risultati non sono mancati. In poche ore sono stati contestati ben 12 verbali per superamento dei limiti di velocità sulla statale 6,47, oggetto purtroppo di molti incidenti, a volte anche mortali. Sempre durante i controlli sono stati inoltre elevati altri 12 verbali per varie infrazioni al codice della strada, come dicevamo, l'uso del cellulare alla guida ma anche il mancato utilizzo delle cinture. In totale nel giro di poche ore la Polizia Stradale di Campobasso ha riscontrato ed elevato 24 verbali che hanno comportato il pagamento di oltre 2.500 euro di multa e la decurtazione di 50 punti dalle patenti degli automobilisti sanzionati. Nei prossimi giorni però questa attività di controllo con l'ausilio di personale e pattuglie in borghese verrà ripetuta sia con l'ausilio del telelaser sia con l'ausilio dello street control che, grazie ad una sofisticata telecamera a raggi infrarossi, è in grado di elaborare ed indicare il tempo reale se il veicolo sia in transito o anche in sosta sia provvisto di copertura assicurativa e di revisione o sia provento di furto. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per sabato 15 febbraio. Tempo in miglioramento sul Molise con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo, mare adriatico molto mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione. Campo basso minima 4, massima 12 gradi. Isernia temperature comprese tra i 3 e i 14 gradi. Termoli minima 12, massima 13 gradi. Venafro minima 3, massima 12 gradi. Ed ora solo qualche istante di pausa, ci ritroveremo insieme tra poco per la pagina sportiva e quindi per parlare di calcio, futsal, basket, volley. Restate con noi. Eccoci ancora insieme per parlare di sport. Partiamo allora dal calcio di serie D con il programma delle gare di questo weekend. Si gioca nel Girone F la ventiquattresima stagionale ed è in programma un anticipo. Chieti-Montegiorgio si giocherà domani alle 14.30. Tutte le altre invece regolarmente domenica e quindi l'Olimpiagnonese è impegnata in trasferta a Fiuggi. Il campo basso in casa col Porto Sant'Elpidio. Il vasto Girardi in casa con la Vastese. Le altre partite Avezzano Recanatese, Giulianova San Marino, Iesina Pineto, San Nicolò Tolentino e San Giustese Matelica. E quindi il campo basso è pronto ad affrontare il Porto Sant'Elpidio. Candellori suona la carica. Siamo pronti a vincere. Pronti per questa gara casalinga col Porto Sant'Elpidio? Sì, la stiamo preparando al meglio. È una buona squadra. Soprattutto davanti hanno buoni giocatori ma la stiamo preparando molto bene. Siamo carichi e vogliamo portare il massimo di punti a casa. Ecco, credo che vi farebbe piacere rivedere la bella curva come è accaduto contro il Pineto. Quindi lanciamo anche questo appello, Kevin, perché è importante che i tifosi ora non facciano retromarcia sull'afflusso allo stadio. Ma quello penso anche di no. Ci hanno seguito a Matelica in tanti, quindi io penso che in casa tornano indietro. Poi domenica c'è il sole. Una bella giornata e invitiamo tutti allo stadio a sostenerci. Dai, dopo due pareggi consecutivi ora occorrono i tre punti, Kevin. Sì, occorrono i tre punti obbligatori. Anche se sarà dura, però dobbiamo portarli a casa. Agnonese contro il Fiuggi, Coneo Amaia al posto dello squalificato Minicucci. Vietato mollare l'indicazione di staff e società al gruppo Granata che può giocare senza l'assillo di dover fare risultato a tutti i costi, ma di contro deve continuare a spingere sul gas perché l'obiettivo è lì e bisogna blindarlo per rendere la stagione unica ed esaltante. L'Olimpiagnonese, insomma, non può permettersi passi falsi e domenica Fiuggi deve provare ad ottenere l'ottavo risultato utile e consecutivo per alimentare il sogno play-off. Se manteniamo la nostra fame ce la possiamo giocare con tutti, l'avvertimento del direttore sportivo Elio Ciccorelli. Attenzione all'avversario, l'atletico Terme Fiuggi è arrabbiato, l'undici di incocciati dopo otto domeniche di fira senza perdere e incappato in una pesante sconfitta sul campo del Monte Giorgio. Lo chiamano la mazza grandi, aggiunge Ciccorelli. Lì hanno perso Vastese, Notaresco e Pineto. È una squadra costruita per vincere il campionato e che invece si ritrova a lottare per la salvezza. Per noi sarebbe l'ottavo risultato utile e consecutivo, per questo dico che serve tanta fame e spero che la squadra giochi con grande determinazione. Rosa al completo per Pizzi e Rullo, fatta eccezione per il solo Manel Minicucci, fermato dal giudice sportivo per tre turni dopo il rosso diretto rimediato domenica scorsa. Stiamo preparando il ricorso, annuncia Ciccorelli. Non merita tre giornate di squalifica. Al suo posto, Cone o Amaia? Pressing ultra-offensivo, attrazione anteriore per sorprendere la Vastese che arriverà domenica al Civitelle. Così Francesco Farina, allenatore del Vasto Girardi, conta di avere la meglio sull'undici rigenerato dalla cura di Massimo Silva. L'ex tecnico di Campobasso, Isernia, ama il 3-5-2. Farina invece sta schierando i suoi col 3-4-2-1. Dunque proverà a giocarsela a specchio, seppur con delle differenze che nascono dagli interpreti e dalla dislocazione in campo dei calciatori. Ed ora i campionati regionali. Partiamo dall'eccellenza. In programma ci sono ben 5 anticipi. Domani per la 21esima stagionale. in campo Alife Treppini-Matese, Baranello-Boiano, Campobasso 1919-Isernia, Rocca Sicura-Gambatesa, Sesto Campano-Guglionesi. Giocheranno domenica invece Capriatese-Pietra-Monte-Corvino, Acli-Campobasso-Campo di Pietra-Venafro, Termoli-Comprensorio-Vairano. Sono due invece gli anticipi in promozione per la 23esima stagionale. e quindi domani in campo Carovilli-Torrevecchia e Ripa-Limosani-Termoli-2016. Domenica Ururi-Atletico-San Pietro-Inballe, Ala-Fidelis-Donche-Issagnone, Cliternina-Biccari, Maronea-Campomarino, Fortore-Trivento, Spinete-Calena, Volturnia-Casteldi-Sangro. Dal calcio a 11 al calcio a 5, anche in questo caso vediamo il programma delle partite che si giocano tutte domani in serie a 2, diciannovesima stagionale. a sopporto Melilli-Regalbuto, Atletico-Cassano-Cataforio, Barletta-Rotigliano, Magic-Crati-Cus-Molise, Manfredonia-Futsal-Polistena, Real-Rogit-Cefalù, San Michele-Bisceglie. In serie B invece vediamo gli impegni delle altre due molisane per quanto riguarda la sedicesima di campionato. Chaminad-Campobasso-Real-Dem, Diaz-Free-Time-Aquila, Canosa-Giovinazzo, Capurso-Torre Maggiore e Olimpi-Costuni-Sporting-Venafro. Riposa Aquile-Molfetta per questo turno. Ed ora con il prossimo servizio, Vincenzo Ciccone ci racconta la vigilia di questi importanti match per le molisane di calcio a 5. Sabato all'insegna di due trasferte per le tre molisane del futsal nazionale. In A2 il CLN Cus-Molise viaggerà alla volta della Calabria dove a Cosenza sarà chiamato a fare punti contro un Magic-Crati capace di sconfiggere in casa anche la Virtus Rutigliano e con la necessità di conquistare il bottino pieno per uscire dalla prospettiva play-out. Dalla sua il quintetto di San Gennario vuol superare quella quota 30 che ormai è un tabù da due turni a questa parte in virtù di altrettanti stop. In Serie B, forte dell'entusiasmo per l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia e del successo interno già ottenuto con la Diaz Bisceglie vuol mantenere il suo prezzamento play-off lo Sporting-Venafro che andrà a far visita ad un Olimpi-Costuni che ha sì due lunghezze di margine sui play-out ma che è stata capace di imporsi a campo basso in casa della Chaminade. Il team rosso-bruto al canto suo ospitano nel proprio impianto del Pala Selvapiana l'Areal Dem che mercoledì non si è presentata sul campo del Cus Sancona ed ha mancato un possibile accesso alla Final 8 di Coppa Italia dove rappresentare il Girone G oltre allo Sporting-Venafro ci sarà pure la formazione delle Aquile-Molfetta Quintetto a riposo in questo turno. Ed ora la palla a canestro femminile di Serie A2 vediamo il programma delle partite del Girone Sud c'è la ventunesima stagionale con tre anticipi ovvero Faenza Selargius, Livorno Virtus Cagliari e Pistoia Q Cagliari. La Magnolia Campobasso gioca domenica invece a Dariano Irpino e domenica in campo anche Civitanova Marche High School Lab e la Spezia Umberti da riposano San Giovanni Valdarno e Viterbo. Sempre per la palla a canestro ci spostiamo sul fronte della Serie C Gold maschile c'è solo un anticipo a domani Maddaloni, Catanzaro tutte le altre in programma domenica e quindi Agropoli-Venafro Baschetti-Irpini a Cercola Bellizianghi c'è l'impegno casalingo del Globo Isernia col Salerno e infine la New Caserta che ospita il Forio sempre domenica. Chiudiamo con la palla a volo femminile di Serie B1 il programma della dodicesima anzi quindicesima scusate di campionato solo una partita si gioca domenica quindi quasi tutte domani ovvero Agrigento-Palmi Arzano-Cerignola Europa 92 Isernia-Castellana-Grotte quindi domani alle 18 Fiamma-Torrese-Chieti Virtus-Orsogna-Santa Teresa-Diriva domenica invece Altino-Santelia-Fiume-Rapido riposa il Modica. E con la palla a volo femminile si chiude questa edizione del TG vi ricordo tutti gli aggiornamenti in serata in diretta alle 19.30 con il collega Pierluigi Boragine grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci.